Dal 1 al 23 giugno sono aperte le selezioni al corso di istruzione e formazione tecnica superiore per diventare esperto in tecnologie informatiche applicate al settore sanitario. Una figura professionale altamente ricercata dalle aziende sanitarie. Un profilo professionale di facile sbocco lavorativo. Il corso si rivolge a giovani adulti in età lavorativa, occupati e non, residenti o domiciliati in Abruzzo. In possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale di tecnico. Il corso, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Fondo Sociale Europeo, prevede 860 ore da svolgere in aula, in laboratori e in stage. La partecipazione è completamente gratuita, ma riservata solo a 20 persone. Affrettati! Per partecipare basta riempire il form presente sul sito www.console.coop entro il 23 giugno. Grazie per la visione!